Svanito nel nulla da due settimane, Diarjen Kampais, abile informatico e cofondatore insieme a Julian Assange della piattaforma Wikileaks, non si hanno più notizie dal 20 agosto, quando è stato visto allontanarsi dal suo albergo a Bodo, in Norvegia. La polizia conferma di aver aperto un'indagine. Secondo fonti di Wikileaks, che si dicono preoccupate per la situazione, l'uomo aveva prenotato per il 22 agosto un volo interno per Trondheim, a bordo del quale non è mai salito. Kampais, esperto di cybersicurezza, aveva di recente pubblicato un saggio di giornalismo investigativo dal titolo Information Security for Journalists.